buongiorno a tutti ci troviamo a ponticelli qui in una campagna limitrofa del paese distante forse meno di un paio di chilometri infatti da lì praticamente nelle retrovie tra virgolette troviamo il paese di ponticelli l'immobile che presentiamo è un terreno agricolo molto ben curato con ingresso diciamo da strada bianca saranno forse 6 700 metri di strada bianca molto sfruttabile lo vediamo qua davanti composto e molto variegato soprattutto perché diciamo è un'ottima soluzione su questo lato lo vedete qui in questo diciamo rettangolo troviamo la vigna che è molto ben funzionante e che il proprietario giustamente si ricava diverso olio diverso vino insomma e da questa parte praticamente troviamo anche le alberi da frutto quindi nella parte più bassa soprattutto un po più pianeggiante non perché lì sia scoscesa però sostanzialmente c'è un piccolo avvallamento e su questo lato troviamo tutte le alberi da frutto quindi insomma pesche pere mele situazioni del genere lo vediamo su questo lato ci sono anche delle piante di quercia che ovviamente potrebbero fare da ombra e alla parte sovrastante sono tutte le piante d'olivo su quel costone è una parte molto panoramica secondo me che guarda tutto il paese di ponticelli che noi vediamo eccolo lì in in lontananza dovrebbero esserci circa 100 piante d'olivo ci diceva il proprietario il terreno è tutto molto ben curato sia arato e sia comunque sia le piante molto ben curate e potate signori con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite arrivederci grazie a tutti